Terremarchigiane, questa associazione che è nata nel 2020 in ossequio ad una legge regionale, ad una delibera della giunta regionale che poi è stata modificata peraltro quest'anno. Ma la Confcommercio ha delito perché riteniamo che il distretto del biologico sia una grande opportunità dal punto di vista economico e turistico per tutto il territorio. Crediamo che un'associazione che si occupi di biologico non debba coinvolgere solamente gli operatori agricoli, gli operatori che fanno del biologico una condizione di vita, di esistenza, ma deve coinvolgere tutti gli operatori della filiera, a cominciare dagli operatori del turismo e della ristorazione. In fondo, se un produttore agricolo utilizza metodi non chimici, metodi biologici per i propri prodotti, ebbene questi prodotti si trovino nel mondo della ristorazione. Ed è altrettanto vero che la promozione di un distretto che è sostenibile valorizza anche il turismo nell'area che sono coinvolte. Presentiamo finalmente, ufficialmente, il distretto biologico Terremarchigiane, che ha proprio un suo logo. Qui abbiamo presente l'artista, una studentessa del liceo artistico di Fermo. Siamo qui anche per chiedere all'amministrazione regionale di poterci fare aderire al distretto unico regionale biologico come distretto, senza dividerci, senza separarci, perché per noi è importante rimanere uniti, visto che siamo già pronti e operativi per dare il nostro contributo al territorio marchigiano. Insieme a tanti altri sindaci abbiamo aderito a questo consorzio del distretto biologico della nostra provincia, perché, chiaramente, insieme a quello regionale che è voluta dall'amministrazione, un distretto unico, però la peculiarità di questo territorio ha una storia ben precisa. Ha una storia di produzione agricola, ma ha una storia anche di trasformazione dei prodotti alimentari biologici. Un territorio uniforme dove c'è una riconoscibilità, anche a livello internazionale, già consolidato, della provenienza del prodotto di questo territorio. Quindi noi vogliamo questo valore accrescerlo, quindi è l'obiettivo delle amministrazioni che hanno aderito a questo distretto. Rachele, come è nata un po' l'idea di creare questo luogo, da dove è partita, come ti è venuto in mente, raccontaci un po'. Ho scelto il picchio marchigiano, dove poi ho inserito una foglia, che è simbolo del biologico, ed è anche un cuore rovesciato, che è il cuore delle marche. Sono felicissima di essere stata scelta per il luogo. È una grandissima soddisfazione, infatti ringrazio tutto il distretto biologico, la mia preside e la mia professoressa, perché è una grande soddisfazione.